Ed infine ci siamo, se tutto va bene questo video dovrebbe arrivare qui nel canale il 10 di marzo, domenica, ed è proprio nella notte tra oggi e domani che si svolgerà quella che è la cerimonia di premiazione cinematografica più importante al mondo, e cioè la cerimonia degli Oscar. Vi ricordo anche che in Italia la cerimonia verrà trasmessa da Rai 1, il tutto inizierà intorno alle 23.30 più o meno, con i primi commenti, la valutazione del red carpet, l'arrivo delle star, e poi la cerimonia vera e propria inizierà intorno all'una di notte, quindi un po' prima anche rispetto alle annate precedenti. Quindi tutto avverrà su Rai 1, quello di oggi è un video che mi porterà a fare i classici pronostici, le classiche previsioni per quanto riguarda appunto la vittoria nelle varie categorie, vi dico fin da subito che lascerò fuori da questo video le categorie legate al miglior documentario, i cortometraggi, perché fondamentalmente non li ho visti, quindi non avrei la possibilità di potermi sbilanciare in maniera credibile, quindi non li prenderò in considerazione. Prenderemo in esame tutte le altre categorie, però prima di iniziare come sempre piccolissimo angolo promozionale, per ricordarvi innanzitutto di iscrivervi al canale, quindi se siete capitati qui per caso, oppure se guardate solitamente i miei video senza essere iscritti e volete aiutare il canale a crescere ancora di più, iscrivetevi, attivate anche la campanella, poi se volete anche permettere a questo video di arrivare a tante persone, lasciate un like, commentatelo con quelle che sono le vostre personali previsioni degli Oscar, condividetelo ovunque vogliate, ed infine vi ricordo anche che qui sotto in descrizione trovate i link della mia pagina Facebook, della mia pagina Instagram e del mio canale Telegram, se volete iscrivetevi anche lì, vi aspetto anche lì. Detto questo, chiudiamo questa parentesi e lanciamoci davvero in quelle che sono le previsioni in ottica Oscar, ovviamente cercherò di beccarne quante più possibili, mi baserò su delle impressioni soggettive, su delle motivazioni soggettive, però appunto cercherò di in qualche modo indovinarne quante più possibili, ovviamente pronto comunque ad essere smentito dai fatti. Allora, iniziamo con quella che è la categoria miglior canzone originale, vi ricordo che le canzoni candidate sono The Fire Inside per il film Flaming Hot, I Just Can per il film Barbie, It Never Went Away per il film American Symphony, Was Aze per il film Killers of the Flower Moon, ed infine What Was I Made For per il film Barbie. Per quanto, durante la cerimonia degli Oscar ci dovrebbe esserci, dovrebbe esserci la esibizione di Ryan Gosling per quanto riguarda la canzone I'm Just Can, quindi sarà uno dei momenti forse più anche divertenti della cerimonia, io credo che la statuetta come miglior canzone originale andrà alla canzone What Was I Made For, chiaramente per Barbie, quindi questa è la mia previsione per questa categoria. Passiamo alla migliore colonna sonora originale, vi ricordo che i film candidati, quindi le colonne sonore dei film sono American Fiction, Indiana Jones Il Quadrante del Destino, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Povere Creature. Io sono dell'idea che la statuetta come miglior colonna sonora originale andrà in particolar modo a Ludwig Goransson per quella che è la sua colonna sonora straordinaria, c'è da dire, del film di Christopher Nolan Oppenheimer, quindi la prima statuetta che in questo video io vado ad assegnare ad Oppenheimer non sarà l'unica, tra l'altro. Sono convinto appunto che la colonna sonora del film di Nolan sia la migliore tra quelle che vi ho appunto elencato, tra quelli dei film che vi ho appena elencato, per quanto c'è da dire anche la colonna sonora di Povere Creature sia, e cioè è davvero anche notevole, stesso discorso per la colonna sonora di Killers of the Flower Moon, metto in secondo piano American Fiction e Indiana Jones Il Quadrante del Destino, anche se c'è da ricordare l'ennesima candidatura di un gigante del cinema, e cioè John Williams, però per me la migliore colonna sonora originale andrà ad Oppenheimer. Procediamo con la categoria miglior sonoro. I film candidati sono, allora innanzitutto The Creator, poi abbiamo Maestro, Mission Impossible Dead Reckoning, che diciamo viene etichettato ancora come parte 1, anche se in realtà il film è stato retitolato soltanto Dead Reckoning, poi abbiamo Oppenheimer, ed infine la zona di interesse. Ora, fino al giorno prima di vedere la zona di interesse, io ero convintissimo che l'Oscar come miglior sonoro sarebbe andato a Oppenheimer, e potrebbe anche succedere, però c'è da dire che dopo aver visto la zona di interesse, sono quasi sicuro che la statuetta per appunto il miglior sonoro andrà a questo film, perché? Perché il sonoro della zona di interesse è un altro protagonista del film, forse è il protagonista principale del film e rappresenta l'elemento forse anche determinante nel far sì che questo film sia riuscito così come è arrivato. Ora non voglio spoilerarvi nulla, ne ho parlato nella recensione, ma tutto ciò che si sente durante il film regala allo spettatore un'esperienza cinematografica inimitabile. Quindi per tutti questi motivi la statuetta, l'Oscar come miglior sonoro, secondo me andrà alla zona di interesse di Jonathan Glazer. Procediamo poi con la categoria miglior montaggio. I film candidati sono Anatomia di una caduta, The Old Overs, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Povere Creature. Non ho grandissimi dubbi, anche se c'è chi dice che la statuetta potrebbe andare anche ad Anatomia di una caduta, ma secondo me il miglior montaggio verrà vinto da Oppenheimer, dato che il montaggio risulta essere decisivo, vi ricorderete, nel film, nel permettere anche al film stesso di proporsi allo spettatore raccontando tre linee temporali differenti, senza far perdere il filo della narrazione, anzi arricchendo proprio attraverso un montaggio di queste tre fasi, arricchendo quella che è l'esperienza cinematografica dello spettatore e offrendo quindi una panoramica su quella che è la storia di Oppenheimer e su tutti quelli che sono i personaggi che lo circondano. Quindi per tutti questi motivi, secondo me, il miglior montaggio, l'Oscar per il miglior montaggio, verrà assegnato appunto al film di Christopher Nolan, Oppenheimer. Procediamo poi con i migliori effetti speciali. I film candidati sono The Creator, Godzilla Minus One, Guardiani della Galassia Vol. 3, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, ed infine Napoleon. Ora, per quanto in realtà in tanti, come dire, stiano in queste ore affermando che la statuetta potrebbe andare anche al film The Creator di Gareth Edwards, un film che io non ho amato particolarmente, però c'è da dire che il comparto tecnico è qualcosa di alto livello, io spero, anche se il film in realtà non l'ho visto, spero che la statuetta vada a Godzilla Minus One, proprio perché ha generato un entusiasmo in tutto il mondo, perché in qualche modo attraverso un budget non particolarmente elevato, ha fatto sì appunto che si venisse a realizzare un film spettacolare, in maniera davvero eccellente. Ripeto, sto riferendo ciò che ho letto dalle tante recensioni che si trovano sul web, io spero di poter vedere quanto prima possibile questa pellicola, quindi mi baso su quelle che sono le impressioni altrui, però se dovessi dare una mia personale opinione, è chiaro che gli effetti speciali del film The Creator sono davvero eccezionali, però se dovessi puntare un euro, ecco, lo punterei su Godzilla Minus One, e sarebbe anche un ottimo segnale per l'industria cinematografica tutta, che darebbero gli Oscar, proprio perché il risultato, quello che è stato appunto il risultato eccelso, che è stato ottenuto da Godzilla Minus One, è stato ottenuto con un budget non necessariamente elevatissimo. Passiamo adesso al miglior trucco e acconciatura. I film candidati sono Golda, Maestro, Oppenheimer, Povere creature e La società della neve. Non ho grandissimi dubbi nell'andare a prevedere il fatto che il miglior trucco e acconciatura, l'Oscar per il miglior trucco e acconciatura, verrà assegnato a Povere creature di Yorgos Lantimos, anche perché proprio il trucco e le acconciature sono un elemento, come dire, centrale anche nella pellicola stessa, sono di altissimo livello, rappresentano uno degli aspetti tecnici di alto livello di quello che è appunto il film Povere creature. Quindi non ho grandi dubbi, c'è chi dice che il miglior trucco e acconciatura potrebbe andare anche al film Maestro di Bradley Cooper e potrebbe anche essere l'unica statuetta, però io personalmente tifo per Povere creature e sono quasi appunto certamente convinto che la statuetta andrà al film di Yorgos Lantimos. Procediamo con i migliori costumi. I migliori costumi prevedono la presenza tra i candidati di Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer e Povere creature. Stesso discorso, io sono quasi convinto, certo al 100% no, ma al 90%, che la statuetta per i migliori costumi andrà assegnata appunto al film di Yorgos Lantimos, Povere creature. E diciamo che il discorso è molto simile a quello che ho fatto per il miglior trucco, per quanto anche in Barbie tutto sommato i costumi siano importanti nell'andare a creare quella che appunto è in qualche modo l'estetica del film. Anche in Napoleon chiaramente ottimi costumi, stesso discorso vale per Killers of the Flower Moon, probabilmente un po' meno Oppenheimer, però sono davvero convinto che Povere creature abbia qualcosa in più per quanto riguarda la qualità generale dei costumi. Quindi la mia previsione va proprio per il film di Yorgos Lantimos. Miglior scenografia. I film candidati sono Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer e Povere creature. C'è chi dice che la statuetta come miglior scenografia possa andare a Barbie, proprio per questo mondo ideale, fantastico, che è stato ricreato, Barbie Land, mettiamola così, però anche qui io tifo per il film di Yorgos Lantimos. Quindi sono convinto che Povere creature riuscirà a dettare legge, soprattutto per quanto riguarda le categorie tecniche e proprio le scenografie, lasciatemelo dire, sono sbalorditive, sono mozzafiato, quindi sono convinto che il livello qualitativo sia superiore anche allo stesso film di Greta Gerwig e mi auguro davvero che venga riconosciuto con la consegna della statuetta proprio al film di Yorgos Lantimos. Quindi miglior scenografia, la mia personale previsione, è appunto legata a Povere creature. Miglior fotografia. La miglior fotografia prevede la presenza tra i film candidati di El Conde, del film Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer e Povere creature. Ora, c'è chi dice che anche qui potrebbe dire la sua, il film di Yorgos Lantimos, anche la fotografia di Oppenheimer è sicuramente di alto livello, però io sono convinto che se una statuetta deve essere consegnata al film di Martin Scorsese, ecco, questa dovrebbe essere legata proprio alla migliore fotografia. Quindi sono convinto che il film Killers of the Flower Moon si aggiudicherà la statuetta come miglior fotografia, appunto, la fotografia di Rodrigo Prieto. Grandissimo lavoro quello che è stato svolto da Rodrigo Prieto proprio per il film di Martin Scorsese. Quindi la mia previsione è legata proprio al film Killers of the Flower Moon. Procediamo poi con la categoria miglior film d'animazione. I film candidati sono Spider-Man Across the Spider-Verse, Il Ragazzo dell'Aerone, Elemental, Nimona e il mio amico Robo. Il mio amico Robo purtroppo non l'ho visto, ma perché in Italia uscirà ad aprile. La mia previsione è legata a Il Ragazzo dell'Aerone di Hayao Miyazaki. Io tifo spudoratamente per questo film. C'è chi dice che in realtà, come dire, la statuetta potrà andare anche a Spider-Man Across the Spider-Verse, però sono convinto che nel complesso Il Ragazzo dell'Aerone abbia, come dire, una qualità complessiva, forse non superiore da un punto di vista strettamente estetico, mettiamola così, perché Spider-Man Across the Spider-Verse in qualche modo fonde anche metodiche ed animazioni differenti, però se dobbiamo prendere in esame invece la componente narrativa, la storia, anche l'importanza che può avere nell'economia generale del mondo d'animazione Il Ragazzo dell'Aerone, beh, tutto questo mi spinge verso appunto un pronostico favorevole nei confronti della pellicola di Hayao Miyazaki, quindi se devo fare una previsione, miglior film d'animazione per me, Il Ragazzo dell'Aerone. Grande film, tra l'altro, grandissimo film. Miglior film internazionale? Non ci saranno grandi dubbi in questo caso, credo. I film candidati sono Io Capitano, film italiano per il quale si fa il tifo, anche se non credo ci siano grandi speranze di vittoria, Perfect Days, La Società della Neve, La Sala Professori ed infine La Zona di Interesse. Io non ho davvero nessun dubbio, la statuetta andrà alla Zona di Interesse di Jonathan Glazer, film magistrale, io mi sbilancio davvero, qui siamo di fronte ad un possibile capolavoro, sarà il tempo a certificare tutto questo, ma diciamo che è una sorta anche di ragionamento matematico, perché se La Zona di Interesse è candidato anche come miglior film, beh, vorrà dire che è il miglior film tra quelli candidati al miglior film internazionale, quindi facendo 2 più 2, la statuetta dovrebbe andare proprio alla pellicola di Jonathan Glazer. Procediamo poi alla migliore sceneggiatura originale. I film candidati sono Anatomia di una caduta, Lezioni di vita, scusate, The Old Overs, Lezioni di vita, Maestro, May December e Past Lives. Ora, per quanto il mio cuore batta maggiormente per The Old Overs, film di Alexander Payne, sono convinto che la statuetta in realtà andrà ad anatomia di una caduta di Justin Trieu. Non è un film che mi ha fatto impazzire, lo devo dire, non è un film che mi ha fatto gridare al miracolo, non è un film eccezionale come stanno dicendo in tanti, secondo me. Un bel film, chiaramente, ci mancherebbe altro. Ecco, se devo sbilanciarmi, pur in qualche modo tradendo quella che è la mia speranza, che la statuetta possa andare a The Old Overs, in realtà io credo che il film premiato sarà proprio Anatomia di una caduta di Justin Trieu. Staremo a vedere. Mio sceneggiatura non originale. I film candidati sono American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Povere creature e la zona di interesse. Anche qui, per quanto la mia speranza sia legata alla possibile vittoria della zona di interesse di Jonathan Glazer, in realtà ormai sembra essere quasi scontato il premio per American Fiction. Non è che anche qui mi trovi di fronte ad un film eccezionale che mi ha fatto urlare al miracolo, però capisco anche quelle che sono le dinamiche legate alle scelte dei membri dell'Academy e il tema principale di American Fiction in qualche modo, secondo me, verrà premiato il tema del razzismo, fondamentalmente, quindi la migliore sceneggiatura non originale sarà, secondo me, appunto, assegnata al film American Fiction con, ricordiamolo, la presenza anche di Jeffrey Wright, protagonista principale. Procediamo poi con una importante categoria, e stiamo arrivando a quelle che sono le categorie regine, e cioè miglior attrice non protagonista. Le candidate sono Emily Blunt per Oppenheimer, Daniel Brooks per Il colore viola, America Ferrera per Barbie, Jodie Foster per Niyad oltre l'oceano, ed infine Divine Joy Randolph per The Holdovers. Non ci sono grandi dubbi, le tante premiazioni che si sono susseguite in queste settimane, in questi mesi, fanno in qualche modo indirizzare la scelta senza grandi esitazioni, proprio verso Divine Joy Randolph per The Holdovers, premio che tra l'altro sarebbe meritatissimo, quindi nessun dubbio in merito, Divine Joy Randolph io credo che si aggiudicherà proprio l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Non ci sono neanche tantissimi dubbi per quanto riguarda la categoria miglior attore non protagonista. Ricordiamo che i candidati sono Sterling K. Brown per American Fiction, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Ryan Gosling per Barbie, ed infine Mark Ruffalo per Povere Creature. Non ho grandi dubbi, il premio andrà a Robert Downey Jr. per Oppenheimer, e io sono contentissimo di questo. Sarà l'ennesima conferma in questa stagione cinematografica, dato che Robert Downey Jr. ha già ricevuto tanti premi per quella che è la sua straordinaria, stratosferica prova nel film di Christopher Nolan, e quindi sarà anche una sorta di consacrazione definitiva con la vittoria dell'Oscar come miglior attore non protagonista. Quindi Robert Downey Jr. Miglior attrice, protagonista, e qui i dubbi ancora ci sono. Le candidate sono Annette Baning per Niad Oltre l'Oceano, Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Sandra Huller per Anatomia di una Caduta, Carey Mulligan per Maestro, ed infine Emma Stone per Povere Creature. Ora, fino a qualche settimana fa io avrei detto senza grandi dubbi Emma Stone per Povere Creature, ma l'assegnazione del sag a Lily Gladstone qualche giorno fa, qualche settimana fa, mi fa in qualche modo cambiare la previsione, quindi se dovessi puntare il simbolico euro verso quella che appunto potrebbe essere la vittoria dell'Oscar come miglior attrice e protagonista, in questo momento direi Lily Gladstone, anche per tutta una serie di motivazioni legate proprio alla sua persona, sarebbe la prima nativa americana ad aggiudicarsi la statuetta, quindi le scelte dei membri dell'Academy spesso sono anche legate a queste dinamiche, fermo restando che comunque Lily Gladstone la statuetta se l'è meritata ampiamente per quella che è la sua grande prova nel film di Martin Scorsese. Quindi, previsione Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon. Procediamo poi al miglior attore, scusa, miglior attore protagonista, chiaramente io ho qui il foglio in cui sono elencate tutte le candidature, perché ricordare la memoria sarebbe impossibile, miglior attore protagonista, i candidati sono Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin, Paul Giamatti per The Old Overs, Killian Murphy per Oppenheimer ed infine Jeffrey Wright per American Fiction. Non ci sono grandi dubbi in merito, secondo me per la categoria maschile, l'Oscar come miglior attore protagonista andrà a Killian Murphy, andando anche in questo caso a coronare una carriera che lo ha visto, sì, sempre protagonista ad alti livelli, ma probabilmente mai come adesso. Una grandissima prova la sua nei panni di Oppenheimer, che è già stata tra l'altro anche consacrata con altre premiazioni negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, il tutto, secondo me, verrà completato proprio dall'assegnazione dell'Oscar come miglior attore protagonista, quindi Killian Murphy, mia personale previsione. Penultima categoria, categoria chiaramente molto importante, abbiamo la miglior regia, miglior regista. Abbiamo Jonathan Glazer per La zona di interesse, Jorgo Zlantimos per Povere creature, Justin Trie per Anatomia di una caduta, Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon ed infine Christopher Nolan per Oppenheimer. Anche qui, devo dire, non ho grandissimi dubbi, questo è l'anno di Christopher Nolan ed infine, quindi, anche lui avrà la possibilità di vincere la statuetta come miglior regia, sarà la prima, sarebbe la prima, parliamo ancora al condizionale, meritatissima, perché davvero è un film straordinario, non lo considero il suo miglior film in assoluto nella mia personale classifica di gradimento, però davvero, siamo di fronte ad un'opera d'arte, siamo di fronte ad una regia clamorosa, che è giusto che venga premiata proprio con l'assegnazione dell'Oscar, della statuetta come miglior regista. Quindi, mia personale previsione, Christopher Nolan vittorioso appunto agli Oscar per la categoria miglior regia. Ed infine, arriviamo a quella che è la categoria regina, quella che solitamente viene tenuta per ultimo nella cerimone degli Oscar, cioè miglior film. I film candidati sono American Fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, The Old Overs, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Povere Creature e La zona di interesse. Lasciatemi dire, una qualità complessiva eccezionale, tolto forse Barbie, che è un film che non mi fa impazzire, ma nel complesso abbiamo dei film che vanno dalla sufficienza più che piena fino davvero all'eccellenza. Quindi, quest'anno, una qualità complessiva che mi ha sbalordito, per quanto riguarda la mia previsione, anche qui non ho grandissimi dubbi, per quanto ci possa ancora essere qualche spazio di manovra per eventuali sorprese dell'ultimo secondo, vedasi, The Old Overs, io credo però che la statuetta come miglior film andrà ad Oppenheimer, quindi quest'anno, un po' come è successo anche in alcuni degli anni passati, la, come dire, si avrà la coincidenza tra il film che vincerà il miglior film e il regista del film stesso. Quindi, miglior film, secondo me, Oppenheimer, e sarebbe anche in questo caso una consacrazione definitiva per Nolan, sarebbe una consacrazione definitiva anche per il film Oppenheimer, che è davvero una delle opere cinematografiche più importanti degli ultimi vent'anni, sicuramente dell'anno scorso, ovviamente, e quindi la vittoria dell'Oscar lo andrà a consacrare in maniera totale. Quindi, la mia previsione, miglior film, è Oppenheimer, appunto, legata al film di Christopher Nolan, Oppenheimer. E così, chiudiamo quindi questo video di previsioni, fatemi sapere che cosa ne pensate voi delle mie scelte, ma soprattutto, fate voi le vostre previsioni qui sotto nei commenti, sbilanciatevi, in maniera più o meno, come dire, strana, quindi se volete fare delle previsioni un po' più sopra le righe, fatele comunque, però, fatemi sapere quelle sono le vostre idee per quanto riguarda la possibile vittoria degli Oscar nelle varie categorie che vi ho appena elencato, quindi ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io, come sempre, vi ringrazio innanzitutto per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video, vi ricordo, iscrivetevi al canale, è davvero la cosa più importante che possiate fare, quindi cliccate sul tasto iscriviti, attivate anche la campanella, per supportare questo video potete lasciare un like, potete commentarlo, come vi ho detto, condividerlo ovunque vogliate, e vi ricordo anche che vi aspetto nella mia pagina Instagram, nella mia pagina Facebook, nel mio canale Telegram, trovate i link qui sotto in descrizione. Noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima video recensione, in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale, ovviamente, questa notte ci sarà la rassegna degli Oscar, non so ancora se riuscirò a fare una live, devo dirlo, quindi è quasi sicuro, devo dire in realtà che questo non accadrà, quindi ci sarà modo di seguirla, salvo contrattempi dell'ultimo secondo attraverso dei post nella mia pagina Instagram, nella mia pagina Facebook, anche qui nel canale, non credo che riuscirò a realizzare una live, ma potrebbe anche succedere, quindi lasciamo il tutto in sospeso, ovviamente, nei prossimi giorni, penso già domani, qualora dovessi avere anche la lucidità mentale per poterlo fare, penso e spero di poter realizzare immediatamente quello che sarà il video di commento alle vittorie che ci saranno appunto nella nottata di oggi. Quindi io vi auguro buoni Oscar, buona cerimonia degli Oscar a tutti voi, ci rivediamo ovviamente presto in questi lidi e io vi auguro comunque una buona domenica e una buona giornata a tutti. Ciao a tutti.